E se proviamo una cosa sporca? Ah! Non sono più qua. Non volevo rapinarli. Riprendemi i miei soldi. Allora, prima di andare lì... Tra l'altro era proprio così, giro qua e basta. C'è anche qua sopra. Ma è sempre l'oro. Non abbiamo l'Azel, però... Mi è fatto. Vediamo cosa fa. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda che c'è qua. Io odio che non posso girare l'inclinatura verso il basso. Devo cercare il buco. Carina questa. C'è la voce ma schile. C'è la voce ma schile. C'è la voce ma... Se ti dubbi le mie conclusioni, andiamo con la voce. Cosa hai trovato? La mia assistenza. C'è la voce ma schile. C'è la voce ma schile. C'è la voce ma schile. È un uccasso. Ma, tornando. Che hai trovato? C'è la voce ma schile. Cioè gli olifanti sono tutti investigatori. C'è la voce ma schile. Da. C'è la voce ma schile. Cosa possiamo fare? Prima ho risolvere con Norrin. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? niente cittadina 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 però sono segnati ma non ci possiamo parlare in questo caso che insegna a fare cioè di solito anche i profuli no con cui potevamo parlare e confondo solo le idee scendiamo questi che sono due men bark softly to each other a single name reaches your ears nine fingers it's a name you know nine fingers is the head of the guild a criminal organization operating inside boulder's gate hmm Buono. Ma che colorino ha il tizio lì? Nine fingers won't be happy about Zenobia, and I'm not about to tell her. You better than me. Now listen, I'll only say this once. Lower City, Basilisk Gate, Guildhall. And that's all you're getting from me. Now Scram, the chat's officially closed. Ayudar a la señora del crimine, eh? No, sì, c'era questo prima, in effetti. Il Signore di Pietro l'abbiamo già sentito, no? Oh no. What a high house of wonders again. Oh, I hate... Something's on my mind. You're looking parched, sweetheart. Another tankard? Hells, darling. Another sip and I'm like to spill over. But other anchoring for spicier flavours. How about you give me a taste? Right as falling rain. What's it to you, Chaffa? Don't worry your pretty head about the fist, love. I can play them all like a loop. Ok. Proviamo questo. Questa magari si arrabbia in realtà. Vabbè, teniamostra così perché sennò devo ricaricare... No, no, no. Chi era la gatta? Ehm, non abbiamo... Ma a proposito... Questa non possiamo farla. Elisir. Cioè, pozioni sono solo di guarigione. No, no, questo non è qua, giusto. Tartufo ghianda. Estratto. Essenza di. Eccolo qua. Cos'è che vorrebbe? Il tartufo ghianda. Dov'è? 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 Esiste nel mondo? Possibile che non l'avevo mai trovato. Ma io non me lo ricordo nemmeno di nome. Come. Come, come, to pay your respects to the real lady of the house I see. What a clever creature you are. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an offering. Oh, you flatterer. But you are, of course, correct. My tail is quite the mother. Unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from your deference. And I must suffer their foibles alone. But they do say a burden shed is a burden half. Ah. Vabbè, però lo sappiamo già. E avranno dovuto parlare prima. E' un po' strano il viso, gli occhi sono... Boh, non mi sembra più corretto. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Le ho parlano del nuovo topcat in il criminello underbelly. Così d'accordo per te. Per loro, per loro. Non si sono mai ricordati, nemmeno si tratta o ACM. Inoltre si può cercare elemente col sacco del vero. E' un piacere non c'è. Abbiamo trovato tutte le cose qui, ma c'è un visitante frequente che la mia presenza mi offre. L'appartiene fabbolicamente, ma staccava di pelle, qualcosa inferno per sicuro, abhorrento. I conti, ci sono i conti qua e li leggiamo tranquillamente. Così poco. Volutà, decadence. E' sbagliatissima proprio. Peralmeno per me, per Philip non lo so. Tre costumi, no? Ah, forse... L'appartiene pubblica. Lei non c'è oggi, alas. La tua penanza deve prevedere. Beh, abbiamo altri modi per cercare la tua voce. Un drink per uno, un pezzo di drow per l'altro. Prendete la tua pelle. La tua pelle. E' morta anche questa? Cosa. Eh. Ah, la biblioteca di Elminster, non è di Elminster, ma è di Fion, nella sala di piacere di Fion, prendi la chiave, l'abbiamo già aperta. Allora, la biblioteca di Fion, la biblioteca di Fion. Ma è Coso? Ancora Raffaele? Ma dove è? Quindi sta parlando di Raffaele allora? Anche il gatto dico. Oh. 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 Charest Caress, il bambino di mamzelle. Cuidare la tua lingua, sottolineare la pelle, scattare la tua ricca, prendere l'attenzione che vuoi e evitare l'attenzione che non hai. Mostrami quello che offri, vorrei vedere cos'altro hai. Il mio negozio è slingare tankards, non ordinare segreti. Io vorrei mantenere l'attenzione. Vediamo un attimo qua. Cioè alla fine sono tutte scorte. Cioè alla fine sono tutte scorte. ... 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